I patroni della giornata mondiale della gioventù sono modelli per i giovani, fratelli e sorelle nella fede che vogliono condividere con tutti i giovani la propria esperienza di sequela di Gesù Cristo. Con il loro esempio vogliono mostrare cosa è cambiato nella loro vita da quando hanno scelto di seguire Gesù. La preparazione, la realizzazione e il dinamismo di ogni giornata mondiale della gioventù che inizia con l'incontro dei giovani di tutto il mondo con il Papa sono affidati a patroni, santi e uomini e donne canonizzati o in via di canonizzazione che sono punti di riferimento per la comunità giovanile. Ognuno di questi patroni viene a dimostrare che la vita di Cristo riempie e salva i giovani di tutti i tempi. Per la giornata mondiale della gioventù di Lisbona 2023 sono stati scelti 13 patroni. San Giovanni Paolo II San Giovanni Bosco San Vincenzo Sant'Antonio da Lisbona San Bartolomeo dei Martiri San Giovanni de Britto Beata Giovanna di Portogallo Beato Giovanni Fernandez Beata Maria Chiara di Gesù Bambino Beato Pier Giorgio Frassati Beato Marcel Callot Beata Chiara Luce Badano Beato Carlo Acutis Beata Giovanni S chalini Grazie a tutti